Scafare questo scantinato ci vuole tanto, ma Giacomo, che ci fai ancora qui? Sono almeno due giorni che sto scafando lo scantinato e ti ritrovo ancora qui. Eh, ma devo finire il barile, perché sennò poi diventa brutto e non è più buona la birra. Oh dai, che tanto la birra si conserva i 30 anni, su. Ok, andiamo, va bene. Ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo video dedicato alla Redcraft 3. Come avete visto poco fa, ho fatto un sogno parecchio strano dove craftavo degli standardi. Quindi, potremmo iniziare a fare qualcosina, ma come vedete laggiù in fondo c'è anche una novità che vi mostrerò tra poco. Quindi l'obiettivo di oggi è provare a craftare quegli standardi che ho visto nel sogno e consegnarli ai diversi team. Quindi andiamo subito al magazzino. Ok, coloranti ce ne sono, lana, ok, si può iniziare. E questi sono gli standardi dei team della Redcraft, a parte altri due che ancora non avete visto, ma li vedrete poi. Allora, questo qua in fondo è quello del team d'azzurro, quindi è il mio praticamente, e rappresenta una mangrovia, credo, immagino. Questo qua invece, il viola, penso sia di Nappus, io ho cercato di rifarli come ho visto. Poi c'è anche una volpe rossa, se non sbaglio, e questo qua lo porteremo a Panix. Questo invece sembra un pezzo di redstone, quindi immagino Biss e Suriv. Questo invece mi ricorda tanto il team di Minuzzo, con il blocco di Micelio. Qua invece abbiamo un funghetto rosa, sicuramente è di Mino. Qui invece abbiamo una rosa nera, quindi probabilmente di Panix. Quindi, che cosa faremo? Dovremmo andare a portare questi standardi ad ogni team, solo che ce ne sono due che non vi ho ancora fatto vedere. Quindi, capirete il perché non ve li ho fatti vedere, quindi fate bene attenzione. Cani, dove sei? Dove sei, cani? Ti devo dare una cosa, cani! Dov'è? Sento rumore. Che? Oh, bella cani, ciao! Salve. Salve, tutto bene? Cosa ci fa lei qui? Eh, in pratica ho una cosa per te. Questo. Ok. E grazie a un sogno praticamente ho visto delle immagini un po' confuse. Cavolo. E mi è uscita questa cosa qua. Quindi ho pensato al nero, mi sei venuto in mente te, quindi penso ti riguardi. Poi, cose strane, probabilmente, boh, adesso forse... Non ho mai visto una cosa del genere io. Eh, allora, non lo so, comunque, magari col tempo lo scopriremo, un significato ce l'avrà, dai. Non credo. Non lo sai, ok. È bello, è vero? Sì, non è male. Sì, sì, dai, non è male. Scopriremo prima o poi, dai. Scusa il disturbo, cani. No, no, anzi, è bella, grazie. Figurati. E va bene, io allora vado dagli altri, devo portare altre cose dagli altri, quindi ti saluto. Ok, ciao, gioco. Ciao, ciao, cani, ciao. Eccoci qua, siamo arrivati da Nappus, che bella torre, guarda che roba. Nappus, dove sei, Nappus? Oi, oi, sento una foccia. Eccolo. Ciao, Nappus. Ciao, gioco. Ti devo raccontare una roba, praticamente ho fatto un sogno stranissimo. e quasi premonitore, non lo so, e ho visto dei colori, gli standardi. Ho detto, ma provo a craftarne un po' e vediamo che cosa succede. Questo qua, guarda, ma... Bellissimo! È tipo del tuo colore, non so, può essere che magari ti appartiene. Quindi... Ho deciso di portartelo. È stato una specie di sogno premonitore, però... Beh, figo, vero? Non è che hai dovuto per fare questo sogno. No, no, tranquillo, non... No, no, è tutto a posto. Bellissimo, davvero. Fantastica, mi piace. E niente, quindi io ero qua per questo, quindi ti lascio lavorare le tue cose. E ci vediamo la prossima volta. Ma devo darti qualcosa? No, no, tranquillo, tranquillo. È un regalo. È un regalo. Oh, grazie, che gentile. Figurati. Ciao, Nappus! Grazie. Ciao, 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 ciao. Minuzzo, dove sei? Minuzzo! Ma chi è che suona a quest'ora che è tardissimo? Dannazione, guarda, è notte qua fuori. Ciao, Minuzzo, scusami. Ma è successo un fatto. Praticamente ho fatto un sogno e tipo ho visto gli standard. Ma sto dormendo, dannazione. Ma è importantissimo, fidati. Riguarda il futuro, il nostro futuro. Guarda, tieni. Ho fatto questo standard per te. E, cioè, credo sia per te. Nel senso, ho visto il colore lime, ho visto il micelio e ho pensato a te. Però, sai qual è la cosa strana? Che ce n'era un altro. Guarda qua. Sì. Ma non si capisce niente, è strano. Non si capisce. È tutto confuso, vedi? Aspetta, ma mi ricorda qualcosa? Oddio. Veramente? Questa è una cosa che... Sì, avevo pensato una mezza cosa. Cioè, come fai a sapere? Non lo so. Come hai fatto a sognarla? È stato un sogno stranissimo. Pro il monitore, non lo so. Dio. Vabbè, comunque io... Hai paura? Scusami. Io ti lascio dormire, però volevo farti questo piccolo dono. Diciamo, forse un dono. Non lo so. Ma sto sognando, per caso. No, perché sei arrivato di notte, tutto di fretta così a bussare, con sto coso, che... Eh, lo so... Mi ricorda qualcosa? Cioè, io non lo so. Non so che cosa pensare, ti giuro, ma... Mi fa paura. Mi saprò sdebitare, ok? Quindi... Ok. Ti chiedo scusa e ci vediamo la prossima volta. Va bene. Ciao Minuzzo, buonanotte, ciao! Grazie, ciao, ciao. Eh, salve! Salve! Eccosi qua! Ciao Panix! Sto smontando la tavella. Tranquillo, tranquillo. Ciao Gioco, come stai? Bah, guarda, un po' turbato, perché... Intanto tieni, così ti bevi un attimo una birretta. Oh, grazie. Un po' turbato. Praticamente, senti qua, ho fatto un sogno stranissimo e ho già avvertito gli altri. e praticamente nel sogno craftavo degli standardi. Allora mi è venuto subito da farli. E ho pensato a... Sì, sì, guarda, guarda questo qua. Questo qua è per te. Perché mi ricordavo al tuo team. Hai visto? No, per bere. Vai! Hai visto che roba? No, vabbè, è pazzesco. Poi il rosso, la volpe. Ma incredibile, in un sogno. Pazzesco, vero? Beh, la volpe di poi, meno male dai, cioè, cavolo, raffigura il mio team, la mia zona. Esatto. Le volpi, le cose, cioè, è fighissimo. Fighissimo, ma senti qua. Spiegami, cioè, questo l'hai sognato? L'ho sognato. Io ho sognato... Cioè, hai sognato di farlo e quindi ti sei sognato di poi l'impatto. Esattamente, c'è stata una strana forza che mi faceva fare questi standardi. E senti una roba, guarda questo. Io non lo capisco. Non lo capisco, però so che devo darlo a te. Non so perché. Io non riesco a capirlo. Poi... Fondo nero, rosso, cioè, sembra raffiguri un drago? È vero, sembra un drago. Sembra veramente un drago. E questo, cioè, com'è successo? Cioè, non ho capito, anche questo l'hai sognato. Non ti so dire, guarda. Cioè, l'hai visto così il mio. È confuso, è tutto confuso. Cascina questo particolare, eh? Potrebbe essere una visione del futuro. Potrebbe significare qualcosa. Esatto. E aspetteremo. Non lo so. Tu conservalo. Bravo. Io sì, sì, no, certamente. Questo me lo prendo, me lo metto in casa e vediamo. Poi, boh, qualche segno, qualcosa. Qualcosa succederà. Sì, stanno succedendo cose strane, guarda. Cioè, veramente. Veramente cose assurde. È pazzesco che poi c'è in un sogno che fai gli standardi, poi li fai e caspita, poi sono belli, cioè, sono... Esatto, è incredibile. Non è una cosa, una fantasia. Tipo una premonizione, ma poi anche mentre li facevo io sapevo già cosa dovevo fare, quindi non te la so spiegare sta cosa, però vabbè, comunque qualche risposta prima o poi ce l'avremo, dai. Vedremo, dai, vedremo. Ok, quindi che dire? Eh, niente, buonissima. Avrete questa birra, comunque, non so perché, ma ha un qualcosa di particolare. È vero, è vero. È buonissima. Non ti saprei dire. È strabuona. Comunque, panics. Eh, ti ridò il bicchiere che... Ah, sì, sì, sì. Sennò poi mi ingeggia già, sto un attimo... Tutto... Sì, capito? Non farci un po' adesso. Va bene. Ci si vede. Grazie di tutto, dai. Ci si vede. Eh, grazie a te. Ci torniamo presto. Ciao, bello. Ciao, caro. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mino, dove sei? Ti devo raccontare una cosa. Mi sa che Mino non c'è. E vabbè, non fa niente. Gli lasceremo allora lo standardo qui e poi gli racconteremo che cosa è successo. Io lo lasciamo proprio di fronte casa. Ecco qua. Aspettate, eh. Io lo mettiamo qua, proprio all'ingresso. Perfetto. Così lui lo vedrà e forse capirà chi gliel'ha mandato. Su, Reeve. Bis. Dove siete? Non ci sono nemmeno loro, ma non fa niente. Noi gli lasciamo lo standardo e vediamo come reagiranno a questa cosa e se scopriranno chi gliel'ha mandato. E rieccoci a casa. Abbiamo consegnato tutti gli standardi e quello che vedete qui è il mio, quindi del team azzurro. Mi piace molto, poi vedrò anche dove metterlo in giro. E quest'oggi volevo mostrarvi un progetto al quale abbiamo lavorato alcuni giorni fa e cioè la farm tripla di string. Quindi una farm tripla di ragni. Se ne è occupato il buon Giso che sta ancora sistemando alcune cosette ma adesso vi ci porto subito. è diciamo abbastanza vicina come zona. Ho messo anche uno standardo nero che rappresenta, eccolo lì, che rappresenta un ragno più o meno, eh, somiglia a un ragno. E ora vi ci porto. Allora, vi farò vedere alcune cosine, quindi intanto io mi butto giù. Voilà, sperando di non morire. Ok, e quanto c'è il buon Giso? Eccoci qua ragazzi. Vi faccio vedere intanto la zona di scavo e com'è adesso. Quindi abbiamo uno spawn qui centrale, poi un altro poco vicino che è qui e poi ce n'è uno laggiù in fondo che però per essere attivato ci vuole una persona qua ferma in un punto specifico oppure noi di solito mettiamo un bot perché se no non spawnano i ragni. Comunque il principio è molto semplice, arrivano dai vari tunnel tutti i vari ragni e poi vengono convogliati in un unico punto e poi si uccidono. Praticamente è una farm di esperienza in più. A noi, siccome ci compete la farm di lana, abbiamo deciso di usare quella di ragni per fare le stringhe. Anche molto più efficiente. Ora vi porto in giro. Intanto il buon Giso sta uccidendo in questo punto i ragni. Aspettate che lo scavalco. Lì abbiamo messo anche una testa di slime azzurro, molto carino. Questo qua è il design. Intanto vi porto anche nelle altre zone. C'è praticamente una zona di raccolta e si va da qui, si va giù. Qui c'è tutta una zona di raccolta e vedete ci sono un sacco di cose. Adesso vabbè alcune sono ancora da riempire. E questa ci serve per fare un po' di esperienza e appunto per poi in futuro vendere anche la lana. Quindi non vogliamo assolutamente fregare il mercato dei ragni al buon Panix. Ma abbiamo un accordo anche con lui. E qui c'è un piccolo corridoio che porta alla zona del bot o della persona appunto. Qui appunto mettendoci qua possiamo far spawnare, vedete, possiamo far spawnare tutti i ragni. Quindi è molto efficiente. Ci sono alcune piccole cose da sistemare però è molto molto utile. E quindi per il momento la nostra prima farm è definitivamente pronta. E possiamo già dire che iniziamo anche a vendere della lana. Quindi se gli altri team sono interessati noi possiamo iniziare a produrre un po' di lana. Ma le novità di quest'oggi non sono finite qui. Adesso vi porto in un altro punto. Le braciole del Wondering Minuzzo. Un diamante per due stack. Ok interessante. Grazie Minuzzo per questo regalo. Quindi abbiamo capito che il buon Minuzzo ci vuole vendere del cibo. Molto molto bene. Grazie Minuzzo. E adesso ragazzi vi faccio vedere le novità. Intanto stiamo portando avanti la zona. Abbiamo dei progetti che arriveranno a breve. Quindi non vi preoccupate perché le costruzioni arriveranno. So che magari tanti di voi vogliono vedere costruire in ogni episodio. Però non è sempre possibile. Quindi vi faccio vedere intanto questa bellissima mangrovia. Che abbiamo realizzato in live alcuni giorni fa. Nel laghetto che vi avevo già mostrato. Quindi i miei aiutanti mi hanno aiutato appunto a creare il fondale di questa zona. E come vedete è fatto in questa maniera. Vi faccio vedere una bella ripresa. Ci sono un sacco di cose carine. Come vedete anche i tronchi con il legno della giungla. Per simulare un albero che si è abbattuto. E diciamo è marcito. E ha iniziato a prendere il muschio del fondale. Poi ci sono gli elementi tipo dei focolari. Dei barilli aperti. Li abbiamo fatti con il silky block state. E poi diversi blocchi. Vedete il corallo. Abbiamo messo anche i licheni. Mi piace molto come fondale. E devo dire che è una figata visto anche da fuori. E questa qua è la mangrovia. Che mi ha aiutato a farla al buon indoor. E anche Andre ha aiutato a fare il fondale di questo luogo. Quindi è molto caratteristica. Poi se vedete ci sono anche delle torce. Scusate delle lanterne con le catene. E poi abbiamo anche utilizzato il legno di quercia scura. Per spezzare un pochino da quello di abete. E qui sopra abbiamo messo del corallo così giallo. Messo in questa maniera per simulare dei nidi. Ok? Quindi spero piaccia anche a voi. A me piace moltissimo perché dà un po' più di vita anche a questa zona. Visto che abbiamo messo un sacco di alberi. Vedete? Ci sono tante mangrovie. Però questa qua a mezzo al lago è un po' più particolare. Ma sbaglio? Qui c'è un barile. Mi sembra di aver sentito degli strani versi. Ok. Quindi vi faccio rivedere bene com'è il fondale. È anche illuminato abbastanza bene proprio per i licheni. Penso che presto faremo altre cose. Quindi mi raccomando seguitemi su Telegram. Troverete anche tutte le informazioni in descrizione. E ci sono tutti i vari link che riguardano la Redcraft 3. Soprattutto nel commento fissato in alto trovate tutto il palinsesto e tutti i vari link utili. Quindi mi raccomando ma... Ma... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie.